E' il giorno della svolta per l'America, Trump se n'è andato, Joe Biden sta per entrare alla Casa Bianca, sta per giurare sulla Bibbia come 46esimo Presidente degli Stati Uniti. E' dunque l'Inauguration Day. Ben arrivato a Maurizio Molinari, il nostro direttore. Buon pomeriggio. E' una festa, però è una festa diversa dalle altre. Washington è blindata ed è vuota essenzialmente. Oggi è un nuovo giorno per l'America, il giorno nel quale l'America volta le spalle a Donald Trump, ai suoi insorti che il 6 gennaio hanno dato l'assalto a Capitol Hill e a tutti coloro che hanno disprezzato la democrazia americana. E' un nuovo giorno perché dopo 244 anni la democrazia americana ripete il rito dell'insediamento del Presidente sugli stessi scalini che sono stati aggrediti da quegli insorti. E' un giorno di festa, è un giorno di gioia, è un giorno di forza della grande democrazia americana, è un giorno nella quale la democrazia dimostra la sua capacità di resilienza e durante la quale dovremmo ascoltare il discorso del 43esimo Presidente che chiederà all'America di unirsi. Eccolo Joe Biden, il Presidente eletto più anziano di sempre, ha 78 anni. Sarà un'amministrazione molto complicata la sua perché siamo ancora nel piano della pandemia, perché c'è una crisi economica feroce anche negli Stati Uniti. Dovrà ricucire un tessuto che si è effettivamente sfilacciato in questi anni? E' assolutamente così. Il messaggio che i suoi collaboratori hanno anticipato nei giorni scorsi, ancora ieri Anthony Blinken l'ha detto di fronte al Senato, è un messaggio basato sulla risposta alla pandemia, sulla risposta alla devastazione economica, sulla necessità di ricostruire, let's build back America, ricostruiamo l'America e in questa maniera ricostruire anche l'alleanza occidentale attorno alla necessità di tutti i nostri paesi di rispondere a pandemia e difficoltà economiche. E' vero che il Presidente ha 78 anni che pone molti interrogativi, ma al suo fianco ha una donna, Kamala Harris, il volto di una nuova generazione, l'energia, la prima donna vicepresidente, la prima donna nera e la prima donna South Asian che viene dall'Asia del Sud. E' qualcosa di importante, di rivoluzionario, avere un vicepresidente donna alla Casa Bianca ci dice quanto la metà più importante del mondo può dare alla più grande democrazia. E attenzione, non c'è solamente questo, perché nelle prime tre cariche degli Stati Uniti che sono il Presidente, il Vicepresidente e lo Speaker della Camera per la prima volta nella storia, due su tre, sono di donna. E insomma, ecco, noi facciamo il tifo ovviamente, stiamo vedendo le immagini che arrivano proprio da Capitol Hill, quindi siamo al Campidoglio, nell'ala Ovest, io vorrei... Oh, Lady Gaga, scusate, aspetterà Anna Lombardi, c'è Lady Gaga, un attimo, perché deve intonare l'Himno dell'America. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. È nata anche Lady Gaga, potente questo suo canto. Andiamo allora a Washington, c'è Anna Lombardi, stavo per annunciarti, mi sono dovuta fermare Anna. Sei in questa città fredda però riscaldata da momenti del genere. C'è un vento gelido che soffia, che spazza la città e fa veramente molto freddo. Però davvero Lady Gaga è un'emozione incredibile, davvero potente. Sì, è vero, è arrivata sin qua. Abbiamo visto sventolare le bandiere americane perché sul National Mall ci sono 200.000 bandiere americane in rappresentanza di coloro che non possono essere presenti a questa cerimonia oggi. Ci sono solo mille persone, mille invitati. Ci sono solo mille invitati perché appunto per le restrizioni del Covid, ma anche naturalmente per tutti quei timori di attentati, di manifestazioni, insomma di elementi di insubordinazione che potrebbero rovinare la festa. Una festa che d'altronde è già in qualche modo stata rovinata dai fatti del 6 gennaio, appena dieci giorni fa in fondo. Appena dieci giorni fa. Come è arrivato Joe Biden a questo appuntamento? E poi raccontiamo anche che cosa è accaduto solamente due ore fa. Se n'è andato appunto Trump dalla Casa Bianca, ha preso prima un elicottero per arrivare alla base di Angels, lì ha fatto il suo ultimo discorso, ha preteso un tappeto rosso per parlare ancora all'America e poi se n'è andato con l'Air Force One verso la Florida. Sì, Donald Trump non ha rinunciato alla sua ultima passerella, ma in qualche modo non è riuscito questa volta a sfilare la scena al suo successore. È stata una cerimonia abbastanza modesta, nel senso che c'era pochissima gente, non c'era nessun alto dignatario del partito repubblicano, il più alto in grado era il suo capo dello staff. Insomma c'erano veramente solamente le persone a lui molto vicine. Non ha fatto un discorso improvvisato, non ha letto quello che invece il suo staff aveva preparato per lui. in cui ha detto in qualche modo quello che aveva già detto nel video di ieri sera, che questo è solo una rivederci. Ti devo fermare ancora, perdonami, perdonami Anna perché c'è Kamala Harris che sta giurando. ендiria Prostè Grazie a tutti. 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 Through a crucible for the ages, America has been tested anew and America has risen to the challenge. Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile at this hour, my friends, democracy has prevailed on this hallowed ground where just a few days ago, violence sought to shake the capital's very foundation. We come together as one nation under God indivisible to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart and I know the resilience of our Constitution and the strength of our nation as does President Carter who I spoke with last night who cannot be with us today but whom we salute for his lifetime in service. I've just taken the sacred oath each of those patriots have taken, the oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us, on we the people who seek a more perfect union. This is a great nation. We are good people. And over the centuries through storm and strife, in peace and in war, we've come so far, but we still have far to go. We'll press forward with speed and urgency for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once in a century virus that silently stalks the country has taken as many lives in one year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. A cry for racial justice some 400 years in the making moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself, a cry that can't be any more desperate or any more clear. And now a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism that we must confront and we will defeat. To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy. unity. 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 In another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, if my name ever goes down into history, it'll be for this act. And my whole soul is in it. My whole soul is in it. Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause, uniting to fight the foes we face. anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness and hopelessness with unity. We can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward reward work and rebuild the middle class and make health care secure for all. We can deliver racial justice and we can make America once again the leading force for good in the world. I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. I know the forces that divide us are deep and they are real. But I also know they are not new. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we're all are created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart. The battle is perennial and victory is never assured. Through civil war, the Great Depression, World War, 9-11, through struggle, sacrifice and setbacks, our better angels have always prevailed. In each of these moments, enough of us, enough of us have come together to carry all of us forward. And we can do that now. History, faith and reason show the way, the way of unity. We can see each other, not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury. No progress, only exhausting outrage. No nation, only a state of chaos. This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America. If we do that, I guarantee you we will not fail. We have never, ever, ever, ever failed in America. We've acted together. And so today, at this time, in this place, let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again, hear one another, see one another, show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured. My fellow Americans, we have to be different than this. America has to be better than this. And I believe America is so much better than this. Just look around. Here we stand in the shadow of the Capitol Dome, as was mentioned earlier, completed amid the Civil War, when the Union itself was literally hanging in the balance. Yet we endured. We prevailed. Here we stand, looking out on the Great Mall, where Dr. King spoke of his dream. Here we stand, where 108 years ago, at another inaugural, thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote. And today, we mark the swearing in as the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. Don't tell me things can't change. Here we stand, across the Potomac from Arlington Cemetery, where heroes who gave the last full measure of devotion rest in eternal peace. And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people, to stop the work of our democracy, to drive us from this sacred ground. It did not happen. It will never happen. Not today. Not tomorrow. Not ever. Not ever. Not ever. To all those who supported our campaign, I'm humbled by the faith you've placed in us. To all those who did not support us, let me say this. Hear me out as we move forward. Take a measure of me and my heart. If you still disagree, so be it. That's democracy. That's America. The right to dissent peaceably within the guardrails of our republic is perhaps this nation's greatest strength. Yet hear me clearly. Disagreement must not lead to disunion. And I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you I will fight as hard for those who did not support me as for those who did. Many centuries ago, St. Augustine, a saint of my church, wrote that a people was a multitude defined by the common objects of their love. Defined by the common objects of their love. What are the common objects we as Americans love that define us as Americans? I think we know. Opportunity. Security. Liberty. Dignity. Respect. Honor. And yes, the truth. Recent weeks and months have taught us a painful lesson. There is truth and there are lies. Lies told for power and for profit. And each of us has a duty and a responsibility as citizens, as Americans, and especially as leaders. Leaders who have pledged to honor our Constitution and protect our nation. To defend the truth and defeat the lies. Look. I understand that many of my fellow Americans view the future as fear and trepidation. I understand they worry about their jobs. I understand. C'è un'interruzione ma intanto proviamo a sintetizzare direttore in modo estremo il discorso del Presidente Biden. Biden ha toccato tanti punti, è un po' un discorso programmatico questo, partando dalla democrazia fragile ma che ha prevalso, è passato per la pandemia, per tutto quello che va costruito. Sì, Biden dice che la democrazia è fragile ma provarà, provarà attraverso l'unità. Per testimoniare l'unità ha citato Martin Luther King, ha citato le battaglie per i diritti delle donne, ha citato tutti quei momenti nei quali l'America si è unita nelle due guerre mondiali, nella risposta all'attacco dell'11 settembre. ha ricordato i caduti di Arlington, ha ricordato la risposta della nazione all'aggressione del 6 gennaio contro il Capitol da parte degli insorti sostenuti e guidati dall'ultimo Presidente. sostanzialmente ha disegnato un percorso dell'unità. È stato un richiamo ai valori del ceto medio americano, dell'America profonda dalla quale lui proviene, un posto dove lui ha detto dove ciò che conta è il lavoro, i valori, unirsi e saper gestire i disaccordi senza dividersi. Credo che questo sia il messaggio più forte che Biden ha consegnato a ogni cittadino americano, sarò il Presidente di tutti e anche di quelli che non mi hanno votato. E l'omaggio e il grande applauso che ha preso quando si è riferito a Kamala Harris lascia intendere proprio che avere un Vice Presidente donna in carne rappresenta questa scelta e questi valori. In the work ahead of us, we're going to need each other. We need all our strength to persevere through this dark winter. We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation. One nation. And I promise you this. As the Bible says, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. We will get through this together. Together. Look, folks, all my colleagues I serve with in the House and the Senate up here, we all understand the world is watching, watching all of us today. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again, not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. We'll be a strong and trusted partner for peace, progress and security. Look, you all know we've been through so much in this nation. And my first act as president, I'd like to ask you to join us today. Join me in a moment of silent prayer. Remember all those who we lost this past year to the pandemic, those 400,000 fellow Americans, moms, dads, husbands, wives, sons, daughters, friends, neighbors and coworkers. We'll honor them for becoming the people and the nation. We know we can and should be. So I ask you, let's say a silent prayer for those who've lost their lives and those left behind and for our country. Amen. Folks, this is a time of testing. We face an attack on our democracy and on truth, a raging virus, growing inequity, and the sting of systemic racism, a climate in crisis, America's role in the world. Any one of these would be enough to challenge us in profound ways. But the fact is, we face them all at once, presenting this nation with one of the gravest responsibilities we've had. Now we're going to be tested. Are we going to step up, all of us? It's time for boldness, for there's so much to do. And this is certain. I promise you, we will be judged, you and I, by how we resolve these cascading crises of our era. We will rise to the occasion is the question. Will we master this rare and difficult hour? Will we meet our obligations and pass along a new and better world to our children? I believe we must. I'm sure you do as well. I believe we will. And when we do, we'll write the next great chapter in the history of the United States of America. The American story. A story that might sound something like a song that means a lot to me. It's called American Anthem. There's one verse that stands out, at least for me, and it goes like this. The work and prayers of century have brought us to this day. What shall be our legacy? What will our children say? Let me know in my heart when my days are through, America, America, I gave my best to you. Let's add, let's us add our own work and prayers to the unfolding story of our great nation. If we do this, then when our days are through, our children and our children's children will save us. They gave their best. They did their duty. They healed the broken land. My fellow Americans, I closed the day where I began with the sacred oath before God and all of you. I give you my word. I will always level with you. I will defend the Constitution. I'll defend our democracy. I'll defend America. I will give all, all of you, keep everything I do in your service, thinking not of power, but of possibilities, not of personal interests, but of public good. And together we shall write an American story of hope, not fear, of unity, not division, of light, not darkness, a story of decency and dignity, love and healing, greatness and goodness. May this be the story that guides us, the story that inspires us, and the story that tells ages yet to come, that we answer the call of history. We met the moment. Democracy and hope, truth and justice did not die on our watch, but thrived. that America secured liberty at home and stood once again as a beacon to the world. That is what we owe our forebearers, one another and generation to follow. So, with purpose and resolve, we turn to those tasks of our time, sustained by faith, driven by conviction, devoted to one another and the country we love with all our hearts. May God bless America and may God protect our troops. Thank you America. Grazie America, dice Joe Biden. Dunque, un discorso, direttore, pronunciato a braccio, profondo, molto sentito, in gran parte paccato, ma deciso. Biden è un politico di lungo corso, questo va ricordato. Esatto, lui si è richiamato ai predecessori bipartisan, ha guardato i veterani di Capitol Hill, democratici e repubblicani, e ha detto una frase profonda che evoca i valori americani, noi guideremo non con l'esempio della forza, ma con la forza dell'esempio, che è un richiamo a quanto di più importante all'America. Essere una nazione capace di incarnare ciò che è giusto, di rappresentare i valori di tutti, e di guidare affrontando le sfide di oggi, come ha detto Biden, non quelle del secolo scorso. E in questo c'è stato forse l'unico accenno alla politica estera. Lui ha detto che chi ci guarda oltre le frontiere devono sapere che prima noi immagineremo le nostre ferite e poi affronteremo le sfide che abbiamo davanti. Che non sono poche, deve anche ricucire un rapporto con l'Europa, per non parlare poi dell'Oriente. Assolutamente, ha detto che usciremo le alleanze, ma io credo che questo discorso che sarà stato guardato con grande attenzione a Mosca e a Pechino lascia intendere che America is back. L'America torna a recitare quello che è sempre stato il suo ruolo dal 1945 di garante della democrazia di tutti. Ancora a Capitol Hill. L'Oriente 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 We've no less days To sing God's praise Than when we first begun I'd like to ask you to sing this last verse with me Not just the people here, but the people at home A work as one united Amazing grace How sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost But now I'm found Was blind But now I see Lui era Garth Brooks, un famoso cantante country statunitense Torniamo e salutiamo così Anna Lombardi che appunto è a Washington Non abbiamo parlato di Mike Pence, del vice presidente di Donald Trump che è stato inquadrato più volte durante questa cerimonia Lui ha salutato ieri il suo ex capo per così dire però oggi è rimasto a Washington a differenza di Trump che dicevamo è volato in Florida senza Aprile casa per Joe Biden e per la sua moglie Jill Sì, ufficialmente Mike Pence non ha salutato Trump alla base di Andrews dove il presidente uscente ha tenuto un piccolo discorso perché non avrebbe fatto in tempo poi a presenziare l'inauguration Ovviamente è la figura istituzionale diciamo più importante fra i partecipanti Però insomma in qualche modo era chiaro che non aveva voglia di insomma le tensioni fra i due sebbene insomma apparentemente appianate sono ancora molto forti Mike Pence si è irritato molto con Trump, con President Trump che non lo ha mai chiamato dopo i fatti del 6 gennaio Dove insomma i seguaci del presidente lo hanno minacciato di morte, dicevano di volerlo addirittura inficcare E quel giorno lui era lì con la moglie, con la figlia, sono stati evacuati in gran fretta Anche grazie all'aiuto dell'eroico poliziotto che poi ha avuto la medaglia del congresso Goodman che fra l'altro era il poliziotto afroamericano che ha accompagnato Kamala Harris adesso Quando ha fatto il suo ingresso appunto sulla scalinata del Campidoggio Grazie Anna, ci sentiamo più tardi, buon lavoro, arriviamo ad Alberto Flores Parlavamo di una cerimonia diversa da sempre, non meno intensa credo No, direi più intensa forse, proprio perché le condizioni in cui è stata fatta con la pandemia Le misure di sicurezza, Washington è una città blindata oggi come forse non l'è mai stata nella sua storia Almeno nella sua storia recente, con 15 mila e passa militari della Guardia Nazionale a controllare ogni angolo della strada E poi è stata intensa perché con le parole sia di Kamala Harris che poi soprattutto del nuovo presidente Joe Biden Ha sancito il cambio di passo dell'America rispetto a questi ultimi quattro anni Che sotto la presidenza Trump hanno visto un'America sempre più, non soltanto divisa Ma anche sempre più arrabbiata ed angosciata Quindi sicuramente è stata una cerimonia importante Nel suo discorso Biden fra l'altro ha parlato due volte di patriots, di patrioti Ma non nel senso che usa Trump che proprio in questi giorni sta valutando con i suoi più stretti collaboratori Gli ultimi fedelissimi che ha di fondare un partito che si chiamerebbe addirittura Patriot Party Il partito dei patrioti Ma ha citato i patrioti veri, i patrioti della storia e soprattutto ha detto I veri patrioti siamo tutti noi, tutti gli americani Direttore, prima di salutarci, chi è Joe Biden? Che uomo è? Joe Biden è un veterano del congresso È un figlio del ceto medio È un uomo che ha sofferto a causa dei lutti che ha avuto nella sua famiglia La prima moglie, il figlio piccolo, poi il figlio perso recentemente Ma è sostanzialmente un uomo che incarna i valori americani E oggi anche i simboli che lui ci ha offerto in questi inauguration day hanno evocato questi valori Ha richiamato Abramo Lincoln e la costruzione del Capitol Durante uno dei periodi più bui della Repubblica Americana E ha giurato sulla Bibbia di Turgut Marshall Un giudice afroamericano della Corte Suprema Che ha firmato la sentenza, contribuì a firmare la sentenza contro la segregazione nelle scuole Questo è Joe Biden Certo medio bianco, l'America profonda L'America che rispetta le regole e il lavoro a duro E che si riconosce nei principi americani che sono principi inclusivi Perché l'America fondamentalmente punta a essere Come disse Abramo Lincoln Una unione che tende sempre a perfezionarsi Perché la democrazia, come lui oggi ci ha detto È fragile ma prevale Se chi ne gode Chi gode dei suoi valori Si batte costantemente per rafforzarlo Grazie direttore, buon lavoro C'è il giornale da fare Quindi bisogna spostarsi in un'altra ala del palazzo Andiamo di nuovo a Washington In questo caso troviamo Federico Rampini Ciao Federico Proprio tornando al discorso del presidente Biden Ha detto che appunto la democrazia è fragile Che è un momento di crisi Ma ce ne sono stati tanti nel corso della storia degli Stati Uniti E che da qui si può partire per costruire Quindi è anche un tempo delle opportunità in fondo Sì, il richiamo più frequente nel suo discorso è stato proprio quello alla guerra civile Quindi il periodo senza dubbio più tragico nella storia di questo paese Di tutte le sfide che ha affrontato Quella è la più tragica perché è stata una guerra tra americani Poi lui ha citato anche tra i momenti terribili La grande depressione degli anni 30 La seconda guerra mondiale E l'11 settembre Ognuno di questi ha detto È stata una prova tremenda Ma da cui siamo usciti attraverso l'unità Della guerra civile Non si può dire altrettanto Fu un massacro Una carneficina Senza uguali nella storia Morirono 700 mila americani Nella guerra civile Più di quanti poi ne morirono Nella prima e seconda guerra mondiale Messe insieme E quelle ferite non sono mai state completamente curate Non è mai stato superato del tutto Il trauma della guerra civile In parte nella questione raziale di oggi C'è ancora un'eredità di quella guerra Nel risentimento del profondo sud Che ha sempre dato una lettura revisionista Della storia Ha sempre letto la guerra civile Come una colonizzazione Da parte del capitalismo del nord Quindi il vero punto di riferimento Per lui è quello E per questo è stato un discorso dove il tema più importante Ricorrente è l'unità Riunificare un paese troppo diviso È la sfida più terribile che ha di fronte Insieme ovviamente alle due sfide gemelle Della pandemia e della crisi economica Però in fondo anche queste sfide Se pensiamo al suo obiettivo di 100 milioni di vaccinazioni In 100 giorni Alla sua manovra da 1900 miliardi di dollari Di spesa pubblica per aiutare i disoccupati Le famiglie Tutto questo passa anche attraverso la ricostruzione Di qualche livello di unità Perché lui non può fare tutto Soltanto con l'appoggio del suo partito E dei parlamentari democratici Questo è in dubbio Alberto Flores nel frattempo ha lasciato la sua stanza Ci ha raggiunti qui in studio Di solito è negli Stati Uniti Da un mesetto all'incirca È tornato in Italia Poi si sposterà di nuovo Va ricostruito anche il partito repubblicano Per agganciarsi alle parole appunto di Federico Perché è un partito distrutto Cambiato Ha un volto diverso rispetto a quattro anni fa Ed è un problema Anche la presenza di Trump Sebbene come accennavi È possibile che inventi una nuova formazione Un nuovo luogo che possa ospitarlo Sì il partito repubblicano va ripensato completamente Ed è la grande paura degli attuali vertici repubblicani Quelli che si sono diciamo dissociati Un po' tardivamente da Donald Trump È quello che ormai ex presidente Formi un partito suo Non dimentichiamo che Trump ha avuto 74 milioni di voti 81 invece 81 li ha avuti Biden Biden ne ha avuti molti di più Però 74 milioni di voti Nessun presidente Nessun candidato repubblicano li aveva mai avuti nella storia In questi 74 milioni di voti ci sono elettori Non tradizionalmente repubblicani Ci sono diversi milioni di elettori che non avevano mai votato Mai Ma non parlo dei giovani che andavano a votare per la prima volta Anche gente di 60, 50, 70 anni Perché? Perché la politica di Trump L'America first Questo sdoganamento del suprematismo bianco Del razzismo eccetera Ha fatto presa su una parte consistente dell'America C'è un detto nei Stati Uniti Una volta che vai a votare una prima volta Poi continui a votare Allora di questi 74 milioni di voti Ci sono diversi milioni di voti Che sono trampiani a tutti gli effetti Riuscirà il partito repubblicano A recuperare questi voti? Non lo so È molto difficile Anche perché Come diceva prima Maurizio Molinari Nell'America di oggi I democratici hanno La Casa Bianca Controllano il Senato Controllano la Camera Hanno le prime tre cariche dello Stato E quindi Il partito repubblicano dovrebbe Da una parte fare un'opposizione molto dura Ma se fa un'opposizione troppo dura Rischia di fare dei regali al trumpismo Dall'altra parte Deve cercare di rispondere agli appelli Dell'unità Che ha lanciato Biden Stasera Nel pomeriggio americano E quindi È una sfida molto grande La vedremo Abbastanza presto Perché fra due anni si rivota Con le elezioni di Metter Se il partito repubblicano Sarà in grado di Ricambiare ancora una volta Lo vedremo fra due anni Federico si vota sempre negli Stati Uniti Si vota costantemente Che cosa c'è in cima all'agenda di Biden Abbiamo detto L'unità è la prima cosa Questo sì La pandemia La lotta La pandemia È l'emergenza del momento La crisi economica Andrà contrastata in qualche modo Ma da cosa comincerà? No proprio da queste due crisi gemelle Pandemia e recessione Che sono strettamente legate tra di loro Questa non è una recessione qualunque È una recessione creata dai lockdown Dell'anno scorso E tuttora attuati Soprattutto in quelle zone d'America Più colpite Quindi Sono le due sfide Su cui si gioca tutto E avete ragione a sottolineare Che poi i tempi della politica americana Sono sincopati Sono brevissimi Tra meno di due anni Perché stiamo parlando del Novembre 2022 Si vota per le legislative di midterm Quell'apparente forza Dei democratici Molto apparente Quel monocolore democratico Casa Bianca Camera Senato Dico apparente Perché le maggioranze Sia la Camera Che al Senato Sono esili E si possono perdere Molto presto Cioè Un rovescio alle legislative di midterm È quasi una legge ciclica Per i presidenti americani E quindi potremmo scoprire Che Biden Avrà avuto Meno di due anni Per realizzare la sua agenda E questa agenda È del tutto dominante Il riuscire Nella sfida Delle vaccinazioni di massa Perché per adesso L'unica via Che abbiamo Per uscire Dalla pandemia E dare Un sostegno Molto Molto robusto Alla crescita economica Sono Le due facce Della stessa medaglia Di nuovo Il Il tema Dei 74 milioni Di elettori Di Trump Non riguarda Soltanto Il futuro Del partito Repubblicano Ma anche Il futuro Del partito Democratico Se il partito Democratico Vuole Andare verso Delle maggioranze Più robuste Più sostanziali Non può Rinunciare Per sempre A rappresentare Ampie fasce Delle classi Lavoratrici Perché quello Che è successo Con l'ultima Elezione È che Trump Ha consolidato Un movimento Che non ha inventato Lui Perché comincia Con Ronald Reagan Il fenomeno Dei Reagan Democrats Li chiamavano I ex Democratici Che avevano votato Per Reagan Comunque L'idea di un partito Repubblicano Che non è più Il partito Dei capitalisti Prevalentemente Non è più Il partito Della vecchia Borghesia Industriale Del nord est Tutto sommato Moderata Liberista Ma diventa Sempre più Il partito Della classe operaia Delle classi operaie Vecchie Nuove E in particolare Di tutti quelli Che non hanno la laurea Perché il vero Discrimine Nell'ultimo risultato Elettorale È stato proprio Che quelli Con la laurea Hanno votato Democratico Quelli senza Compresi Tanti ispanici E perfino Una quota Minoritaria Ma sorprendente Di afroamericani Senza laurea Hanno votato Per Donald Trump Cosa Cosa può fare Il presidente Appena Appena insediatosi Da pochi minuti Per riconquistare Anche queste fasce Di voto operario Beh È il tema Della ripresa Economica Deve essere Una ripresa Robusta Con creazione Di occupazione A tutti i livelli E con meno Diseguaglianze Perché l'anno scorso Noi abbiamo avuto Un paradosso Atroce Peroce Crudele Cioè I poteri forti Del capitalismo Americano Si sono Arricchiti Ulteriormente Grazie Alla pandemia E ai lockdown Big tech I giganti digitali Della Silicon Valley E la finanza Di Wall Street Hanno avuto Un'annata Meravigliosa Sono Annegati Nei profitti È stato Un anno D'oro Per loro È una vergogna Perché nel frattempo Mezza America È scivolata Verso forme Di povertà E questo è un tema Che sfida I democratici Tanto più Che quei poteri Forti Del capitalismo Americano Stanno Decisamente Dalla parte Del partito Democratico Nel frattempo Abbiamo visto Moltissime scene Interessanti Adesso I Biden Stavano salutando Gli Obama C'erano anche I Bush I Clinton Abbiamo visto Presenti Alberto A questa cerimonia C'è stata la benedizione La cosiddetta Inauguration Benediction Del reverendo Beeman Che viene dal Delaware Da Wilmington Quindi da casa Biden Ed è il suo confessore Da trent'anni Quindi c'è anche Un carattere molto Personale In questa giornata Si ricordiamo Che Joe Biden È cattolico E quindi E fa la differenza E fa molta differenza Ed è il primo presidente Cattolico Dopo John Kennedy Quindi Che era stato Il primo in assoluto Se non erro Quindi La presenza La presenza Degli ex presidenti Secondo me È importante È tradizione Che gli ex presidenti Vengano a salutare Il nuovo presidente Al giuramento Ma in questo caso Biden ha citato Carter Il caso Che non poteva venire Che non poteva venire A 96 anni Quindi è rimasto a casa Questa moglie È rimasto chiuso in casa Per tanti problemi Anche fisici Ma è molto importante Oggi Che a fianco Di Clinton E di Obama Due presidenti Gli ultimi due presidenti Democratici Prima di Biden Ci fosse anche George W. Bush A segnalare Che il partito Repubblicano È quello Che rappresenta Lui Il partito Repubblicano Tradizionale A sottolineare L'assenza Veramente Diciamo Ingiustificata Perché Non è solo È veramente È una questione Anche di piccola Maleducazione Nel sistema Americano Non assistere Al Passaggio Dei poteri Al passaggio Del resto Bush Clinton E Obama In varie occasioni Negli ultimi anni Si sono riuniti Avendo Un pensiero E una politica Simile Su questioni Di grande importanza Come l'immigrazione Ad esempio E quella è L'America unita Repubblicana E democratica L'America Di Clinton L'America Di Bush E l'America Di Obama E il problema E il problema Dell'immigrazione Sarà uno Dei primi temi Che Biden Ha deciso Di affrontare Con una legge Assolutamente Iper progressista Che prevede Un percorso Per rendere Cittadini americani Nel giro Di otto anni Prima con Cinque anni Di green card E poi tre anni Per avere la cittadinanza Per e propria A 11 milioni Di clandestini Cioè di Immigranti Che lavorano Da anni Che vivono da anni Negli Stati Uniti Ma non hanno Alcuna Salvaguardia Che cosa ne sarà Federico Del muro Con il Messico Intanto Solo ieri L'uscente Trump Ha perdonato Steve Bannon Che era il suo Stratega Nei primi Tempi Della Casa Bianca Poi si sono Allontanati Sappiamo E Steve Bannon Insieme ad altri Collaboratori Aveva organizzato Un crowdfunding Per la barriera Con il Messico Di 25 milioni Di dollari E evidentemente Visto che è stato Incriminato Insomma L'uso di quei soldi È stato tutt'altro Rispetto a Quanto dichiarato Ecco Che cosa ne sarà Del muro Sì Steve Bannon Li ha rubacchiati Quei soldi lì È una Delle tante cose Che gli vengono Rimproverate Il muro Il muro resta Il muro Quella parte Peraltro In compiuta Che ha aggiunto Trump Al muro Non verrà Certamente demolita La storia del muro È una storia Di simboli No La prima parte Di muro La costruì Bill Clinton Quindi A un'epoca In cui Anche il partito Democratico Aveva un atteggiamento Più duro Nei confronti Del controllo Alla frontiera Per Clinton All'epoca Non era Tra l'altro Quello fu Il pezzo Di muro In California Tra la città A sud di San Diego E a nord Di Tijuana Il tema Il tema All'epoca Di Clinton Era soprattutto La lotta Al narcotraffico Quindi Era un muro Sempre molto simbolico Perché poi I muri Si aggirano In tanti modi Trump Ne ha fatto Un simbolo Molto più grosso Molto più ingombrante Molto più aggressivo Resterà lì Quella parte Di muro Che lui Ha aggiunto Ma è chiaro Che c'è una svolta Nelle politiche Per l'immigrazione L'ha spiegato Prima Alberto Flores Attenzione però Perché quel Progetto di legge Che Biden Affida al congresso Quello per la regolarizzazione Degli 11 milioni Di immigrati clandestini È una vecchia idea Che Fu portata avanti Da Obama Prima di Obama Da George Avery Bush E nessuno Di quei due Presidenti Riuscì a trovare Una maggioranza Al congresso Allora Io sospetto Che Biden Sull'immigrazione Voglia Liberarsi Rapidamente Di un Un tema Molto scottante Affidandolo Alle dinamiche Del congresso Alle dinamiche Parlamentari Perché lui Ha molta più fretta Di far passare Il piano di emergenza Per l'economia E per la pandemia Quelli ha bisogno Di farli approvare Subito Quindi anche Quello che dovremmo Osservare con molta cura Nelle prossime giornate È il gioco Di triangolazione Tra Biden La Presidente Della Camera Nancy Pelosi E il nuovo leader Del Senato Che è Chuck Schumer Capogruppo Dei democratici Sulle priorità Del calendario Proprio il calendario Dei lavori parlamentari Quello ci dirà Molto Molto Già per esempio Nancy Pelosi Nei giorni scorsi Senza dare troppo Nell'occhio Ha raccolto La richiesta Di Biden Di non trasmettere Subito al Senato L'impeachment Perché nel momento In cui la Camera Trasmette l'impeachment Al Senato Il Senato Se ne deve occupare Invece L'impeachment Ormai votato Alla Camera La Camera È un fatto compiuto Nancy Pelosi Se lo sta tenendo Nel suo cassetto Questo è un grosso favore Che sta facendo a Biden Perché Biden Non vuole Che l'impeachment Disturdi Dirotti L'attenzione Diventi Un elemento Frenante Rispetto a quella Grande intesa Sulla manovra Di rilancio Dell'economia Per la quale Lui spera Di avere anche Un po' di voti Repubblicani Ah certo Quindi anche Sulla immigrazione Io credo Bisogna distinguere Diciamo Le grandi affermazioni Di principio Su cui è chiaro Che Biden La pensa All'opposto Rispetto a Trump E poi quello Che lui Pensa di Riuscire Veramente a fare Un'altra cosa Che volevo capire Con te Alberto È Come Si comporterà Nei confronti Del verde L'ambiente Che priorità Ha Nell'agenda Di Biden Intanto Gli Stati Uniti Rientreranno Nell'accordo Di Parigi Assolutamente Dal quale sono usciti È un perimetro Dal quale sono usciti Appena dopo le elezioni Il 4 di novembre Perché Trump Questo ha deciso E invece Ha dato subito Un segnale Proprio a Joe Biden Forse anche All'Europa Assolutamente Il verde È uno dei punti Fermi Della politica Di Biden Ne ha parlato Tantissimo In campagna Elettorale C'è proprio La definizione New Green Deal Che richiama Il famoso New Deal Di Roosevelt Proprio per Far capire Che il problema Dell'ambiente Sarà una delle priorità Di questa prossima Amministrazione Poi io sono D'accordo Con Federico Che la dinamica Tra Biden Cioè tra la Casa Bianca E il Congresso Saranno In alcuni momenti Anche complicati Per quanto invece Faccio una battuta Per quanto riguarda Il muro Che ruba Un senatore democratico Che l'ha fatto Due giorni fa Che ha scritto Su Twitter Ora il Messico Ha solo due giorni Per pagare Per il muro Perché vi ricordate Che Trump Aveva Pretendeva Che fosse Che fosse il Messico I Messicani A pagare A chiudersi in casa Il problema del verde Ovviamente non è solo L'accordo di Parigi Sono le trivellazioni Sono Il gas Insomma Il petrolio Lo shale oil Che è la fonte di ricchezza Per alcuni stati Peraltro A maggioranza repubblicana Quindi Vedremo Anche nei primi ordini Esecutivi Che Biden Ha promesso Di fare Quanto spazio Ci sarà Per il problema ambiente Ma sicuramente Il segnale all'Europa È un segnale netto Siamo con voi Federico Prima di lasciarci L'agenda È fittissima L'abbiamo raccontata Insieme Ma oggi Cosa deve fare Biden Che cosa accade Nelle prossime ore Come si conclude Questo inauguration day Adesso Abbiamo accennato Al fatto che Andranno al cimitero Monumentale di Arlington Le famiglie Biden Kamala Harris Vicepresidente Poi che cosa accadrà Come arriveranno Alla Casa Bianca Intanto non ci sono i balli Quest'anno Prima per il covid E poi Per i pericoli Per l'ordine pubblico Ogni mondanità È stata cancellata Ma guarda A parte L'ingresso Alla Casa Bianca Che è stato preceduto Da squadre di pulizie Disinfettanti Per essere sicuri Che non ci siano Virus Dentro la Casa Bianca Per i nuovi entranti Quello che Veramente Sarà Caratterizzante Nel pomeriggio Perché qui è solo Non è nemmeno Luna del pomeriggio Insomma Quindi rimangono Molte ore E che Biden Si metterà subito Al lavoro Proprio per Firmare Decreti presidenziali Quelli che qui Chiamiamo Ordini esecutivi Sono dei decreti Del presidente Io penso Per esempio Che il rientro Dell'America Negli accordi Di Parigi Per la lotta Al cambiamento Climatico Potremmo averlo Già firmato Da Biden Dentro stasera E alcune Delle Riforme Ambientaliste Lui le può Fare Con una firma Di suo pugno Senza passare Dal congresso Perché Il suo predecessore Aveva adottato Lo stesso strumento Cioè Trump Non ha fatto Una grandissima Controriforma Contro l'ambiente Presentando Un mega Disegno di legge Al congresso Ha firmato Decine Di ordini Esecutivi In cui per esempio Smontava Una serie di regole Di Barack Obama Sui limiti Alle emissioni Carboniche Per le automobili Camion Le centrali elettriche Ha liberalizzato Le tribellazioni Biden Userà Lo stesso strumento Per Cambiare Rotta Immediatamente Nel senso Diametralmente Opposto E quindi Queste Saranno Così come È previsto Che tra i primi Decreti Esecutivi Che lui Firmerà Forse Già Nelle prossime Ore Ci sarà La cancellazione Del cosiddetto Muslim ban Cioè Quei divieti D'ingresso Negli Stati Uniti Che avevano colpito Soprattutto Prevalentemente Nazioni A maggioranza Islamica Lancerà Molti segnali Mettendosi Al lavoro Proprio Già Questo pomeriggio Nel nostro pomeriggio Di Washington Va bene Seguiremo Tutto in diretta Ovviamente Sul nostro sito Grazie A Federico Rampini Grazie Ad Alberto Flores C'è ancora Tanto Da guardare Bisogna Entrare Insieme Alla Casa Bianca Quindi State con Noi Grazie Grazie